Ciao a tutti, sono Silvia, lavoro per Franche e lo scorso ottobre insieme a tutto il team commerciale abbiamo fatto un'attività di team building con il gruppo di Siren Challenge. È stata un'esperienza molto bella per tutti noi, molto formativa. C'era qualcuno del nostro gruppo che all'inizio era timoroso, che non voleva sedere in barca perché aveva un attore del mare, ma grazie all'esperienza del team di Olivero, di Olivero siamo riusciti comunque a convincere anche i più dubbiosi. Siamo saliti, abbiamo fatto due squadre, abbiamo imparato anche a lavorare in squadra, non aveva il suo ruolo. Io sono riuscita anche a fare da timoniere, una cosa che non avevo mai fatto e devo dire che effettivamente quello che si impara in barca si può comunque poi trasportare anche nella vita personale e lavorativa di tutti i giorni. Un'esperienza che consigliamo a tutti.